Siamo all'antistadio del stadio Renato Curi di Perugia, entriamo nel vivo della settimana che ci porterà al derby contro la Ternana. Siamo con Daniele, grande tifoso del Grifo, quali gli umori in questo momento della tifoseria? Umori di attesa e comunque devono essere di fiducia, assolutamente. Bisogna lasciarsi un attimo alle spalle queste prime giornate e guardare avanti con grande entusiasmo e convinzione. Siete convinti anche della qualità della squadra dopo gli ultimi derudenti risultati? Convinti, abbiamo fiducia, bisogna avere fiducia e la convinzione ce la devono dare loro a partire da sabato. Per quanto riguarda la trasferta ci sarà una grande affluenza di voi tifosi del Grifo, almeno in mille, anche se la richiesta è superiore ai mille, come al solito fino all'ultimo si avrà incertezza anche sui biglietti a disposizione. Sì, ma comunque mille, mille cinque, duemila noi siamo nettamente superiori, quindi non è quel centinaio di presenze in più o in meno che fanno la differenza. Cosa ti preoccupa di più di questa stagione? È iniziata male? Non è iniziata benissimo? Nulla, perché noi siamo abituati a soffrire, cinque anni fa eravamo aderuta e abbiamo un DNA che non ci spaventa nulla. Se bisogna fare un campionato al di sotto di quelle che erano le intenzioni o le premesse, comunque non ci saranno problemi.